Musica Bentornati in nostra compagnia cari telespettatori quest'oggi vogliamo parlarvi di un argomento che ha fatto dibattere e discutere parecchio la cittadinanza di San Giovanni Rotondo e mi riferisco all'argomento sulla violenza sugli animali anche se parlare di violenza in questo caso è un po' un eufemismo perché diciamo che tutto parte da una segnalazione da una segnalazione inviataci da uno dei nostri telespettatori che appunto ha trovato questo animaletto, un gattino nello specifico, in fin di vita no Gennaro, giusto? Sì, è così Allora nulla, la via Santa Chiara praticamente una parallela di via Le Cappuccini un gattino di circa sei mesi vive lì vicino a noi noi gli diamo da mangiare, lo accudiamo quando fuori è freddo lo mettiamo dentro lo abbiamo trovato ferito con un colpo di un'arma da fuoco praticamente nulla, siamo intervenuti, abbiamo chiamato l'EMPA Anna Rita Fiorentino molto gentilmente ci ha dato la mano è intervenuto il dottor Gianni Palladino il quale ha rimosso questo proiettile nulla, un proiettile di arma da fuoco poteva colpire anche, che ne so, delle persone Quindi si tratta in questo caso di vera e propria violenza gratuita nei confronti di un povero animaletto randaggio, giusto? E il randaggio non è di vostra proprietà? Allora, il randaggio no, non è di nostra proprietà però, ripeto, noi lo accudiamo e gli diamo da mangiare lì vive nei dintorni di casa nostra Quindi in questo caso però siamo stati fortunati perché non siamo di fronte ad un tragico epilogo, giusto? Allora, siamo stati molto fortunati Da premettere che non è la prima volta che succedono episodi del genere in quel posto Lo stesso Gianni Palladino ha un cane ed è stato anche lui crivellato da colpi di arma da fuoco Con quanta frequenza si verificano questi episodi? Guardi, questo non glielo so dire io non ricordo quanto tempo fa è successo l'evento Gianni lo ha detto la sera in cui noi abbiamo portato il gattino nel suo studio e ha detto appunto questo Da premettere che Gianni Palladino, la figlia, portava fuori il cane quando è stato sparato quindi poteva essere presa anche la figlia Non è bello tutto questo Mi rendo conto, mi rendo conto della gravità della situazione in fondo Quindi il gatto nello specifico aveva un proiettile conficcato All'altezza dello zigomo Come da foto che abbiamo documentato Avete dei sospetti sui probabili? No Anche perché è un'arma di libera vendita Quindi chiunque può comprare quel tipo di arma Non è un'arma che viene denunciata solitamente dopo l'acquisto No, è un'arma di libera vendita Ma comunque fa male, molto 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 male Voglio dire, se prende una persona non l'ammazza sicuramente Però voglio dire, se viene colpito in un occhio Perde l'occhio Poi nel caso dei bambini soprattutto Dato che in quel posto comunque ci sono parecchi bambini C'è la parrocchia di San Francesco Quindi fanno catechismo C'è la messa tutte le sere Tenga presente che il tutto succedeva alle 20 Alle 20, la sera alle 8 Quindi c'è tanta gente Un orario abbastanza pericoloso, molto tra l'altro Certo, come no Quindi dopo di ciò avete comunque chiamato i responsabili dell'ENPA Giusto Annalisa? Sì, la nostra associazione si basa appunto sull'aiuto degli animali In particolare dei randaggi E in quest'ultimo episodio siamo felici, stupiti Che un singolo cittadino, qual è la famiglia Vergura, Gennaro in questo caso Non solo ha subito soccorso questo gattino Portandolo o privatamente ad un veterinario Essendo comunque un gatto a randaggio Ma ha esporto denuncia Cioè è andato dalle forze dell'ordine A fare regolare denuncia E ha preteso che si andasse fino in fondo in questa storia Anche perché come diceva lui prima Questa volta è capitato un gattino indifeso Al posto del gattino ci potrebbe essere una persona Noi ci auguriamo che non ci sia una prossima volta Niente, siamo vicini alla famiglia Vergura In quanto questi gesti vanno assolutamente condannati e denunciati In più abbiamo chiesto anche la colonia felina Per gatti che ce ne sono in abbondanza nella sua zona Di cui loro si occupano costantemente La legge regionale appunto li tutela Con il riconoscimento della colonia felina Così ciascun gatto ha una propria identità Tramite un microchip Che è un'applicazione del microchip In più ha il diritto anche alla sterilizzazione Tramite l'ASL e l'assistenza sanitaria di quest'ultima Questi gesti vanno contrastati e combattuti con l'unione E l'amore che solo chi ha verso gli animali Scusate, sono un po' emozionata Niente, noi ci auguriamo E crediamo fortemente che gente che ha sparato a questo gattino E ha preso abbastonate due cuccioli uccidendoli Una storia che tutti già conosciamo Che ce ne siano ben poche E che vengono pian piano messi ai margini Di questa bellissima comunità Quale è San Giovanni Rotondo Con l'aiuto dei cittadini Delle forze dell'ordine E di tutte le istituzioni Così ci possiamo concentrare E garantire agli animali I loro diritti E la loro assistenza In qualità di volontari dell'ENPA Nel corso degli anni avete visto un incrementarsi Di questi episodi infelici? Per fortuna no Per fortuna no Adesso si sta forzamente il coraggio Di incominciare a denunciare Perché parliamo appunto del signor Vergura Che da cittadino Ha denunciato questo atto Brutto verso questo gattino Quindi siamo felici Siamo contenti Anche perché spesso ci facciamo Ci poniamo delle domande Perché alcuni sistemi non funzionino Però mai ci facciamo la domanda Noi cosa facciamo per cambiare questo sistema? Ecco Lui ha dato dimostrazione Che si può cominciare a cambiare questo sistema Denunciando Denunciando e non essere indifferenti Perché l'indifferenza uccide sempre Perché noi comunque vogliamo ricordare Che si tratta di veri e propri atti gratuiti Atti di violenza puri Nei confronti di questi poveri animali Assolutamente indifesi Quindi lanciamo un appello a questo punto Chiunque abbia dei sospetti Chiunque sia a conoscenza Anche solo appunto lo ribadisco Di un sospetto nei confronti di qualcuno Di chi potrebbe essere il probabile responsabile Di questi gesti Ce lo faccia sapere Ci continua ad inviare le proprie segnalazioni Vi ricordo a questo punto Di inviarci le vostre segnalazioni Alla nostra pagina Facebook Oppure al nostro indirizzo di posta elettronica tvgargano-libero.it Detto questo Vi do appuntamento alla prossima Vi do appuntamento alla prossima